Sveglia le 7 e oggi vi porterò con me nella mia giornata da ambassador di MyProtein. Dopo un mega caffè ho registrato per la mia piattaforma di allenamento e poi ho fatto colazione. Ho lavorato un pochino, pranzato al volissimo, perché poi ho raggiunto tutti gli altri ragazzi del team allo zero gravity. Ho scoperto che probabilmente in una vita precedente era una scimmietta e ci siamo divertiti tantissimo. Ammetto inoltre che sia stato abbastanza stancante, quindi ci voleva proprio una bella cenetta e raga, quella focaccia era devastante. La mia giornata finisce ed inizia con una tazza in mano, quindi secondo giorno e dopo un bel restauro mi preparo per andare a fare una bella giornata di shooting. Io, innamorata di questo completo che andrà presto online, abbiamo iniziato a fare un sacco di video, scattare, creare contenuti e ho assaggiato anche un sacco di barrette. Abbiamo poi pranzato e ci siamo portati a casa un sacco di contenuti per le prossime campagne.